Buongiorno. Hai da accendere per favore? Tieni. Grazie. Grazie. Finalmente un po' di sole. Non si vedeva da un bel po'. Sei italiano? Si sente. Un po'. Perché parlo del sole? Mi manca molto, sai. Mi chiamo Fausto. Nadine, scusa, vuoi andare un po' più là, per favore? Perché? Perché c'è un culo di fuori, non lo vedi? Ah, scusami, non me ne ero neanche accorto. Perché non hai pantaloni? Perché sono qui per un provino. Ti hanno presa? Non credo. Se non ti prendono sono dei pazzi. Sì, dici così perché non hai visto le altre. No, però io ti prenderei. E tu invece? Perché ti fanno vestire così per lavorare? Perché? Non ti piace? A me piace. Chic. Boh, sembri un pinguino. Un pinguino? Beh, un pinguino chic. Senti, ma quanto costa una stanza qui? Eh, dipende. La più cara? Sì. 15.000 euro. 15.000 euro? Scusa, 15.000 euro solo per dormire? Puoi vederla? Si può? Certo.